Sto entrando nel decimo anno di questo servizio in una chiesa bellissima dove sono lieto di fare la mia piccola parte, se Dio vuole, aiutato da un gran numero di sacerdoti e da un laicato che sempre più si fa sensibile, come sto vedendo nel Sinodo di Ocesano, che è il vero momento importante di questo giorno. 41 circoli minori ai quali tutta questa gente ha partecipato con almeno otto incontri. Hanno confezionato un documento di commento allo strumento di lavoro che avevamo proposto e sono stati suggeriti dei cambiamenti, alcune parti cancellate, altre nuove proposte. C'è stato molto dibattito e molta serenità in questa operazione, anzi l'entusiasmo di prendere parte a una sorta di pentecoste rinnovata dentro la nostra chiesa. Poi i circoli maggiori hanno lavorato durante il tempo estivo per mettere insieme le proposte avvenute dai circoli minori e lo hanno fatto con molta sapienza e molto equilibrio. È venuto fuori un resoconto finale in tre parti, l'identità della nostra chiesa, i servizi che sono necessari a farsi e i fini che abbiamo, qual è la nostra missione.